Si chiama Sara Lamar, è una donna, una insegnante, la quale ha trasformato la fermata dell'autobus in galleria d'arte. E' questa l'idea che la donna ha attuato, ha occupato una fermata nella zona ovest di Londra, nel Regno Unito, per cercare di dare colore alla comunità al tempo del coronavirus. La donna ha fermato di aver realizzato la sua vita il giorno dopo l'inizio del blocco del coronavirus nel Regno Unito, quando si è accorta che sarebbe rimasta bloccata a tempo indeterminato a casa, con un panorama rappresentato dalla grigia fermata dell'autobus. E così l'ha rinnovata, l'ha colorata, è diventata una galleria d'arte in piena regola. Complimenti dunque a questa bellissima donna, Sara Lamar, o Sara Lamar che dirsi voglia, il video termina qua. Iscrivetevi se vi la commentate. Un saluto ne caro D'Aleandro, il vostro narratore italiano di YouTube Italia. Grazie e al prossimo video.